Bilancio positivo, anche in Basilicata, del progetto di educazione ambientale è stato nei parchi, promosso in tutte le regioni italiane dal Ministero all'Ambiente. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salvaguardia ambientale intesa come condizione necessaria per lo sviluppo economico e sociale fondato sull'identità e sul senso di appartenenza al territorio. Il progetto, conclusosi lo scorso 2 settembre, è stato realizzato in regione dalla rete territoriale dei centri di educazione alla sostenibilità del Dipartimento Ambiente con la collaborazione dell'ente parco nazionale dell'Appennino Lucano, della Val d'Agri e della Gonegrese. All'iniziativa hanno partecipato circa 300 giovani alunni lucani che sono stati coinvolti in laboratori didattici dove hanno potuto acquisire i principi del rispetto del patrimonio naturalistico e della tutela delle biodiversità. I ragazzi inoltre sono stati protagonisti di attività ludiche in cui hanno potuto scoprire le bellezze di aree naturalistiche più importanti della regione.